L'impressionismo è l'insieme dei gruppi di artisti francesi dell'Ottocento. Il nome di questo gruppo impressionismo deriva da un quadro famosissimo di Claude Monet. Questo quadro abbiamo già trattato in questo canale, che è l'impressione che solo scende. Questo disegno è molto particolare, pieno di colori, il porto sullo sfondo non lo sapete perfettamente, ma in questo impressionismo, diciamo soprattutto Monet, non hanno proprio questa precisione, diciamo non interessano solo l'imprecisione, ma interessano solo mettere i colori e aggiungere qualcosa di nuovo nella storia dell'arte ottocentesca. Nel 1874 gli impressionisti hanno organizzato la mostra. Purtroppo in questa mostra, diciamo, va male perché ricevono dei critici un po' negativi perché, diciamo, gli spettatori, anzi, il pubblico non gli piacciono i loro disegni perché sono imprecisi, di solito, prima di arrivare a questo periodo, il pubblico, diciamo, l'arte è sempre precisa, ma gli impressionisti hanno cercato di cambiare un po' il stile dell'arte. Infatti, non ricevono questi commenti che loro aspettavano nel 1874. Altri artisti in questo impressionismo sono Degas, Renoir e Pissar. Questi gruppi non vogliono stare all'interno degli edifici artistici o nell'accademia. Prepariscono di stare d'untano da questi posti. Vogliono stare insieme e dipingono soprattutto altri all'aperto. Due anni dopo la mostra terribile degli impressionisti, arriva un critico di arte che parla di questi impressionisti al pubblico. e questo critico di arte dice che l'arte ha bisogno di nuovi stili e questi gruppi stanno cercando di cambiare l'arte. Questi gruppi non amano mettere la precessione come piccoli pennelli, ma preferiscono solo mettere ai loro disegni o quadri i colori. Non vogliono troppo precisione. Allora, i presionisti hanno organizzato la vendita dei loro disegni o quadri al pubblico. Capiamo che i impressionisti amano stare all'aperto, ma c'è uno in particolare però ama dipingere al suo studio. Sto parlando di Edouard Degas perché Degas vuole un po' precisare il suo disegno rispetto a Moneos o Renoir. La ballerina con i marza e i fiori. Questo è uno dei esempi di Edouard Degas. Questi straordinari dipinti di impressionisti vogliono mostrare al pubblico la vita quotidiana. Questi splendidi colori che fanno impressione al pubblico. Eccolo perché si chiama l'impressionismo. che cercano di fare, avere un'impressione al loro pubblico. Spero di aver spiegato bene e ci vediamo al prossimo video. Dette amici. Spero di aver spiegato bene e ci vediamo al prossimo video. Spero di aver spiegato bene e ci vediamo al prossimo video. Spero di aver spiegato bene e ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutti. Grazie a tutti.